Scoglio non si parlava solamente di calcio, si parlava anche di sviluppo dell'isola. Ecco, Scoglio allora era lì, vabbè, patavano anche di pallone, allora lui riteneva Poli, che allora giocava nel Bologna, ricorderete quello scontro con Schillaci, meglio i Donatori, questo per farvi capire un attimo il personaggio. Però gli dicevamo, professore, ma lei per quest'isola, noi eravamo ventenni, per quest'isola cosa avete? Che futuro avete? Cioè ragazzi, con me di pallone non dovete parlare, con me dovete parlare di mare. Voi in quest'isola dovete parlare di sviluppo delle manifestazioni sportive legate al mare. Vi lascio riflettere che sono passati 35 anni e ancora noi qui di manifestazioni sportive grosse non ne vediamo. Noi venivamo allora dal Giro d'Italia Vela con Cimoricci, venivamo allora dal campionato di motonautico con Panatta, ma c'era anche Saviero Berlino che oggi è assessore, quindi possiamo anche rispolverarvi volendo. Ecco, il professore Scoglio, il professore voleva per Libari la valorizzazione del mare. Noi senza mare in quest'isola non siamo niente. Ricordiamocelo ragazzi, quando si parla di riserve marine e quant'altro che può tutelare il mare, e qualsiasi cosa collegata ad esso è una grande ricchezza. Quindi portate avanti questi discorsi e speriamo che chi si occupa di politica ci pensi, ci pensi seriamente. Grazie. Grazie.